Dopo un periodo di fibrillazione nella politica amministrativa comunale di Silvi e dopo una pausa di riflessione, Fabrizio Valloscura riaccetta la carica di vice sindaco. Non sono mancate polemiche né divergenze nell'amministrazione Scordella, anche alla luce di un ripasso di giunta. Ora però le acque sembrano calmarsi, soprattutto con la carica di vice sindaco bis di Valloscura. Non solo, c'è anche l'onere e l'onore del coordinamento dei fondi PNRR. Dopo una lunga chiacchierata tra i nostri componenti politici, di idea e con i coordinatori degli altri partiti, hanno espresso tutti la volontà che la mia figura fosse ancora necessaria nel comune di Silvi. Lo si vede dal fatto che il sindaco, insieme a tutti i coordinatori, parlo degli altri partiti, mi hanno dato questo incarico importante, questa responsabilità enorme. Il PNRR sarà il prossimo argomento per il prossimo anno su tutti i settori. Ma negli ultimi mesi cosa è accaduto? Negli ultimi mesi c'è stato l'azzeramento della giunta da parte del sindaco e nei suoi poteri. Abbiamo noi come partito un po' contestato i metodi con cui l'ha fatto e quindi c'è stato bisogno di una lunga riflessione, diciamo anche un po' troppo lunga, durata tre mesi, per chiarire alcune situazioni. L'insistenza di tutti i partiti nel rientro sia di idea che della mia persona in giunta ha fatto sì che il sindaco mi concedesse o in accordo con tutti gli altri partiti mi desse questo importante incarico che è il coordinamento del PNRR, che sarà il prossimo argomento per i prossimi mesi sicuramente. E quindi abbiamo capito che l'idea non farà più una stampella ma sarà parte attiva dell'amministrazione di Silvi. Non dimentichiamo che lei all'inizio aveva rifiutato l'incarico. Sì, rifiutato è una parola un po' pesante, diciamo che c'era un momento di riflessione, il mio partito non ha mai abbandonato la maggioranza, siamo andati al fine in consiglio comunale, votando anche atti che erano il termine, per quanto riguarda gli atti che abbiamo portato avanti, il termine degli atti. Quindi diciamo che c'era bisogno di un confronto, questo c'è stato, c'è stato anche duro, c'è stato anche importante ma alla fine l'intesa si è trovata. A me le sfide mi esaltano, questa per me è una sfida molto importante per il paese. Ho già dato modo di far vedere la mia abilità in questo campo quindi penso di dare degli ottimi risultati. Ai suoi concittadini cosa vuole dire? Che Silvi ha bisogno di guardare un po' il presente perché stiamo programmando troppo il futuro, quindi guardiamo un attimino in più con attenzione il presente, per il futuro ci stiamo pensando. Per concludere, al sindaco? Al sindaco gli dico io sono pronto a lavorare, lavoriamo con lealtà sicuramente i vantaggi per questo paese arriveranno. Al sindaco gli dico io sono pronto a lavorare, lavoriamo con lealtà sicuramente i vantaggi per questo paese.